Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio annunciare l'inizio di una nuova collaborazione importantissima per il mio canale e di cui ne sono veramente onorato da morire, l'inizio della mia collaborazione con la giocolibreria Semola che tanto vedete in sovrimpressione col link e lo trovate e la troverete sempre in tutti i video dedicati a scenari, wargame e soprattutto giochi della GV e qui davanti vedete Warcry. Quindi, sovrimpressione, primo link è in descrizione. E questo qui davanti, il set base di Warcry in italiano, ce l'hanno fornito direttamente la giocolibreria Semola che io ringrazio veramente di cuore, ringrazio Corrado, il proprietario, grazie davvero che a parte che, devo essere sincero, la prima sera che ti ho scritto, tempo 15 minuti, mi è arrivata una risposta per mail e io mi sono detto, avrà risposto, sarà la mail automatica che ti risponde, guarda, ti risponderò domani mattina quando sarò in negozio, anche perché era tipo l'8 e mezza, 9 di sera, era lui che dopo un quarto d'ora mi aveva risposto e aveva detto, sì perché no, proviamo, mi piace come idea. Quindi, grazie Corrado, veramente, sei una persona molto professionale, te l'ho già detto, e sei stato veramente molto gentile. E inizia questa nostra collaborazione e questo Warcry è appunto, come dicevo, il primo gioco che la giocolibreria Semola ci ha fornito il primo set base della GV, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Ragazzi, premetto subito, ma tanto l'avete già visto dal titolo, non è un cosa ne penso, perché il cosa ne penso lo vogliamo fare bene, anche perché di un gioco bello come questo qui che c'ha tante componenti all'interno, c'ha gli scenari, c'ha due bande interi, ora ve ne parlo un pochino, quindi oggi vi faccio soltanto l'annuncio dell'inizio di questa collaborazione e vi faccio l'unboxing, vi faccio vedere il miliardo di cose, cioè, piombo, non ce la faccio nemmeno la d'Arzalla, è con la tartavolino, di cose che ci sono dentro, ed è veramente bellissimo. E appunto vi vogliamo fare, più avanti, finire il cosa ne penso, con la parte delle regole, quindi tutorial e tutto quanto, a gioco dipinto, quindi vi vogliamo far vedere direttamente sia gli scenari che anche le due bande che ci sono dentro dipinte. Warcry è un gioco fatto dagli stessi di Kill Team e sul filone dei giochi dove si sta spostando un po' la Games Workshop negli ultimi tempi, perché andando via dal gioco di battaglie d'eserciti, Warhammer, Age of Sigmar o appunto Warhammer 40.000, e ora hanno fatto anche la versione Apocalypse, non più con l'esercito ma con delle vere e proprie legioni, si gioca addirittura anche con 10.000 e più punti, hanno deciso, iniziando da Kill Team, di buttarsi nei giochi un pochino più a schermaglia, un po' come al tempo era Mordaim nel vecchio mondo, per farvi capire. E avendo fatto appunto un gioco nel 40.000 chiamato Kill Team, i fan sono impazziti e gli hanno detto no, io vi prego veramente in ginocchio, fateci qualcosa ambientato nel fantasy. Nel fantasy ovviamente non più del vecchio mondo, che un po' l'ha accantonato la GV, a me dispiace che piacerebbe a morire, però ci dovrebbe essere anche lì qualche progetto segreto, che dovrebbero annunciare fra non molto, a meno da quello che ho saputo, gli era stato appunto chiesto dai fan di fare, dalla community, di fare un gioco di schermaglia ambientato nell'Age of Sigmar. E quindi hanno fatto questo gioco, dove noi andremo a interpretare, sono tutte quante bande del caos, quindi dimenticatevi magari Elfi, dimenticatevi Umani, Impero, no no, qui sono soltanto bande del caos, che fanno il loro viaggio, come era nel vecchio mondo, vi ricordate, per arrivare anche al cospetto degli dèi, e presentarsi ai quattro dèi del caos e dare prova e dimostrazioni di essersi meritati appunto la benevolenza del dio, che il dio abbassa gli occhi e soprattutto la mano sopra di loro e gli dia i suoi doni del caos. E quindi voi siete una banda del caos, in questo gioco che si divide a mappe, ma perché no, anche tutte quante messe insieme possono formare una specie di campagna e dovrete andare a fare gli obiettivi della mappa e andare a combattere gli altri clan appunto per dimostrarvi di essere gli eletti del dio, quindi per essere riconosciuti come un miglior clan agli occhi degli dèi del caos. È molto bello come gioco perché, a differenza di Kill Team, Kill Team è proprio Warhammer 40.000, ti prendi un codex di Warhammer 40.000, prendi il regolamento di Kill Team, le guardi ed è uguale. Attacco corpo a corpo, abilità balistica, ferite, disciplina, Warhammer 40.000 messo in Kill Team. Questo no, hanno voluto fare qualcosa di differente per quanto le meccaniche sono sempre quelle della GV di Warhammer, però hanno voluto fare proprio un gioco a parte con delle regole quasi del tutto nuove, addirittura qui ci sono dei personaggi, degli eroi, che poi sono tutti personaggi, non ci sono truppe, anche perché avrete una banda di 6-7 miniature al massimo, un po' come era nel vecchio Confrontation, e miniature hanno 10 punti ferita, alcune miniature ne hanno anche 20 di punti ferita, quindi ogni volta che una miniatura sarà ferita, a differenza di Mordime, che magari dopo una ferita o due sono morti, qui ci dovete mettere dei token, accanto per ricordarvi appunto le ferite. Ma la vera e propria figata di questo gioco è che è un gioco PvP, tra le banni, quindi tre giocatori, un gioco da due, ma nel mezzo anche i mostri e le bestie del caos, che non guardano in faccia a nessuno, e che in queste terre, tormentate dagli idee del caos, e dal dono del caos, sono lì per cibarsi delle vostre carni. Quindi sono razziatori mossi dall'intelligenza artificiale del gioco, appunto dalle carte, dalle regole che ci sono nella mappa, non tutte le mappe ce l'hanno. Però fanno il terzo incomodo, perché non è soltanto una mera battaglia, io a prendere l'obiettivo, o a rubarla a te, o a impedirti di prenderlo, oppure la mia banda contro la tua, ma ci sono anche appunto le creature del caos nel mezzo, che in quel momento lì, che te c'è la tua tattica, vai, ora vado lì, gli ammazzo il campione, e poi magari le creature del caos ti attaccano e te lo sbranano, e quindi è bello, perché mette quella cosa inaspettata, che in un gioco del genere, secondo me ci voleva veramente da morire. Quindi è un gioco, ve l'ho detto, molto interessante, è una scatola bellissima, ha degli scenari veramente da paura, tanto ora poi ve lo faremo vedere meglio, nel prossimo video, ricordo questo non è cosa ne penso, e all'interno ci sono le domande, che sono gli Iron Golem, e gli Untamed Beast, tra l'altro belle, veramente da paura. In più, solo gli scenari che ci sono dentro, giuro morissi, valgono il prezzo di tutta la scatola, anche se ci avessero levato le miniature, solo gli scenari valevano questo prezzo. Vi faccio vedere, prima il retro della scatola, ragazzi, cioè per 120 euro, guardate cosa c'è dentro, due bande complete, gli Iron Golem, tra l'altro bellissimi tutti e due, gli Untamed Beast, misuratori, token, carte, regolamenti, e tutto quanto, gli scenari, guardate questa testa qui gigantesca, per questo vi dico, non ve lo voglio fare tutto insieme, perché ve lo voglio far vedere dipinto, deve essere uno spettacolo, quando ve lo mostrerò, e in più ci sono anche le bestie del caos, che non le guida nessuno, e sono lì per mazzolarvi di botte, e sbranarvi, cioè ragazzi, andate là, in 120 euro di roba, cosa c'è dentro. Confezione splendida, il tipo di disegno, mi piace veramente da morire, onesto e sincero come sempre, non vado matto per l'Age of Sigmar, però, indubbiamente, hanno fatto il salto di qualità alla GV, hanno fatto veramente, un lavoro spettacolare, e secondo me, stanno andando nella direzione giusta, e che si sono resi conto, che tante persone, anzi, sempre più persone, soprattutto quelli che adoravano Mordheim, tra cui ci sono anch'io, vogliono degli skirmish game, e hanno trovato la formula perfetta per farli, tra l'altro, una spesa giusta, secondo me, alla portata di tutti, anche perché, gli elementi scenografici, che ci sono dentro, li potete riusare tranquillamente, anche per giocare a Warhammer. C'è poco da mostrarvi, anche perché sono tutti ancora attaccati agli sprue, non abbiamo ancora ovviamente fatto nulla, perché, mia moglie ha sempre fatto l'errore, ovviamente dipinge da poco, col fatto che, prima li monta, e poi li dipinge, e magari tante volte, per arrivare nei particolari, è un po' più difficile, quindi, d'ora in avanti, stacca pezzo per pezzo, li dipinge, e poi li va a montare, come giustamente si dovrebbe fare. Guardate voi, quanta roba c'è qui all'interno, c'è veramente un sacco, ovviamente vanno tutti quanti montati, queste qui sono le bestie del caos, e la cosa che mi ha colpito, maggiormente, quando abbiamo aperto la scatola, appena arrivata, i pezzi degli scenari, che questi qui vedete, sono camminamenti, di legno, mura, vedete qui ad esempio, tipo rastrelliere, con delle esponsioni, e cose del genere, sono in plastica dura, cioè io me lo immaginavo, una plastica un pochino più, anche vedete qua sotto, addirittura delle mura, una plastica un pochino più, leggera, non lo so, abituato forse male, da tanti altri giochi, dura, 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 pare piombo, pare, pare ferro, bello da morire, duro, e soprattutto è difficile anche romperla, una cosa del genere. Poi, non contenti, alla cv, all'interno ci hanno messo anche un game mat, cioè uno dice, già ci sono gli scenari, c'è tutto, no, c'è anche un game mat, tra l'altro, in cartone, bello spesso, duro, guardatela, spettacolare, qui tutti quanti token, vedete le ferite, tutto quello che serve per giocare, che sono le carte, come vedete, delle truppe, con scritte le caratteristiche, che sono il movimento, la difesa, le ferite, più tutte quante le caratteristiche, tipo il range d'attacco, i dadi che tirano, la forza dell'attacco e quant'altro, e poi tutte le altre carte, che trovate all'interno del gioco. Schede, con tutte quante le leggende, e i simboli degli attacchi vari, che possono fare in questo caso, soprattutto gli Iron Golem. Regolamento di gioco, bello grosso, ciccioso, un bel manualone da leggersi, anche perché poi, la GV con la Black Library, ci mettono anche un sacco di lore, e dietro, vedete, la guida, per come montare appunto le truppe, per meglio dire le bande. E poi, già divisa, tra l'altro il simbolo del caos, tra l'altro già divisa bene, la scatola, qui sotto le basettine, quelle per metterci i mostri, e le creature più grandi, e da questa parte di qua, altre basettine, il misuratore, le vecchie unità imperiali, e i dadi di gioco, belli grossi, e belli colorati, come piacciono a me, e un casino di bustine, per conservare tutta quanta la vostra roba. Cioè, ragazzi, fate voi, in 120 euro, uno dice, eh, 120 euro, insomma, è una discreta spesa, guardate la roba che c'è dentro, fate voi. Quindi, io ringrazio di cuore, la giocolibreria Semola, per averci un offerto, una copia per la recensione, ragazzi, primo link in descrizione, che trovate in tutti i video, che farò durante avanti, della GV, anche di pittura, primo link in descrizione, e il link in sovraimpressione, andate a visitare il negozio, della giocolibreria Semola, e al momento dell'acquisto, nel codice discount, usate Coridan7, tanto comunque, ve lo scrivo sempre in descrizione, primo link, e secondo il codice sconto, Coridan7, come numero, tutto maiuscolo, tutto attaccato, e avrete uno sconto del 7%, che ragazzi, non è male, fate un acquisto, quindi ci avete già, un bello sconto, togliete da una parte, quasi completamente, le spese postali, e in più, la giocolibreria Semola, spedisce in tutto il mondo, quindi se state anche all'estero, non c'è problema, un ragazzo, l'altra sera mi chiedeva, Alex, ma spediscono in Svizzera, sì sì, spediscono tranquillamente, e in questo momento qui, che passiamo di coronavirus, stiamo a casa, una cosa o un'altra, anche i negozi, giustamente, anche ordinare da loro, direttamente con un codice sconto, su tutti gli acquisti, che fate tutti, Coridan 7, anche comprando un colore, Coridan 7, tutta quanta la roba, vi arriverà a casa, direttamente con lo sconto del 7%, quindi grazie di cuore Corrado, grazie veramente, alla giocolibreria Semola, e ragazzi, arriverà a breve, un altro video, però, non ve lo voglio far vedere così, vi voglio far vedere, veramente, un cosa ne penso, e un tutorial, vi faccio un tutorial, fatto a modino, con tutto dipinto, e anche gli scenari, fatti da mia moglie, tra l'altro, veramente, mi sto accorgendo, ad avere un artista in casa, il primo link in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima,